wow qui boost 2000 pulsazioni al minuto non c'è un'altra marcia poi arrivi di sotto a quella baita lì c'è quel pezzo lì nel bosco e poi iniziamo la discesa di Apriula verso Casamarco ovviamente minaccia il meteo spettacolo oh senti che profumo meraviglia allora spettacolo ciao che voleno ciao ah gli asinelli ciao cante doldo giusto cacchio come se l'è mangiata via qua vado vai Andrea che adesso si diverte bello 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 il sasso che è rimbalzato sotto il pedale per fortuna bene bene sempre bello vedere le rocce bagnate lisce che ti danno confidenza santo scimano dove cacchio vado scusa mia vai vai no hai fatto bene cosa giusta andare giù dritto hai visto che c'è un sentiero che veniva giù da destra no è un po' concentrato su quello che stavo facendo eh si mi sa che abbiamo fatto quella un po' più ripida ok qua c'è un punto panoramico tra poco occhio che è umido piano piano guarda qua a destra Andrea qua qua no no è qua eccolo qua molto bello wow ho va sei salvato in extremis guarda questo pianino e ho messo giù il piede ah sì qua mi ricordo claudio che aveva fatto uno dei suoi numeri ma anche lì non è male ok in un modo o nell'altro me l'ha portata ooo punticello piano 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 che se è umido facciamo sul sentiero almeno ok un po' di vegetation cramo tra le balle c'è la feci in tutti i sensi qui avevo bisogno proprio tipo formica aspetta aspetta fermati qua che li aspettiamo io davvero era sigillato ormai sono arrivato lì e ho detto se mi fermo non lo faccio no no e io mi sono fermato un attimo in surplus e ho detto vaffanculo esatto perché se mi fermi troppo poi ragioni rocce umide con burrone ne abbiamo un po' di soddisfaccio com'è la morbida qui 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 vabbè sono facendo il fosco anche te sei andato nel fosco mi ha tolito un po' largo e ho detto ma è andata dai ho detto no ostio è scivolato wow eh fia davvero gopro registra video gopro registra video sinistra gopro registra video boonda baby boonda baby gopro registra video gopro registra video gopro registra video gopro registra video gopro registra video